Non vedo, chi è? J, raga, siamo contro JZM JZM è la persona più scarsa esistente sul pianeta SSL Io pensavo che oltre a Anche il mio compagno riesce a batterlo, eh Voi che ne sapete Anche il mio metri ci riesce Eh, gue, eh Non fa niente Non fa niente Non fa niente Seguiamo al kickoff Vediamo Beh è sicuro che Jaser da M Uno dei più grandi seconi Della storia Peggio di Jaser Ok Tempo Mi sa solo che è schillato Bello top Minchia Stava qua Colpa mia Grande Jaser da M Con me ha missato Certi balloni incredibili Speriamo faccia lo stesso Questa partita No e se gli lasciamo le autostrade Forse sembra anche forte Vabbè tempo Sei tu a posto Mastì Che mastì Questa no almeno 212 km orari Più bene Sta mentendo il top In realtà c'è scritto 212 Grande Gulli Puoi skippare Gulli Grazie Facciamo un grande grande kickoff Super veloce Jaser da M Ha deciso di non andarci Una scelta intelligente Da parte di Jaser da M Assolutamente rispettabile Perché Jaser da M Poteva benissimo fare il cover No Lasciamo tirare Perché prenderla Quando è Eh È un intelligentismo Anche come l'ha fatta Sta cosa Per fortuna L'hanno segnato Grande Jaser da M 200 Il Q per lui Grande kickoff Devo dire Era difficile Sbagliare Ia Il mio compagno Lo conosco Lo voglio anche bene Cos'è un bastardo Grande Assaltato Jaser da M Un'occasione incredibile Palla dietro Occhio Vai Gulli Lo saltiamo Ancora 100 di boost Tempo Fessore Direttino Un gulafessore Attenzione Attenzione Ragazzi Pensi Ho bambato GTA Ma sono contento Ci pensa Ancora il mio mate Tranquilli Questa è facilissima Dovete capire Non posso cacciare le palle Ma se no Le sbatterei qua Proprio forte Su questo cazzo di tavolo Mamma mia 3 a 1 Palle in testa Guarda qua che carriata Dai Gulli ce lo mettiamo Sotto la spalla Lo portiamo avanti 6 a Eh 6 a 3 Sì 3 a 1 Vai in mente Wabbo Jaser da M Stai a seguire il kickoff Adesso Dai vai a dormire Colpa mia Sorry Sorry No colpa mia My bad My bad My bad Qui ragazzi Facciamo un grande follow Attenzione a Jaser da M Che a quanto pare Sta seguire il kickoff Finta Non ho capito Se voleva fare gol Calma Raga Lui ha preso già il boost Quindi non gli serve Perché l'ha preso al centrocampo Adesso ci pensa il king Preflip avanti Che palla era questa Jaser da M ragazzi Ha appena fatto gol Fidate È il gol di Jaser da M Nessuno ha gol di vai Tranquillo Si vuole bene lo stesso 3 a 3 Contro una mandrina di Seguni Mannaggia la miseria Raga Occhia la botta Vallo a prendere Fallo fuori Che ci sta JZM infame Mi ha fatto perdere il game di prima Come cosa abbiamo vinto Mi ricordo soltanto che non sei guardo Cosa sto vedendo In questo rank incredibile Finta di entrambi Gulli come ha fatto A predizzare la loro finta Gulli è smart Ragazzi Gulli è smart Veramente Allora 4 a 3 In un minuto C quadro Lobby vergognosa Facciamo un grande kickoff Lentissimo Piano piano A destra 100 di boost Non puoi scoppiare Il re dei bump Bravo Gulli Bumpiamo lui No che è stato Dall'altro lato E beccatevi questo super Fake sotto Sbi JZM Ma cosa fai Spau Mamma per quanto Mamma mia Stavo riuscendo a recuperare Questa palla Incredibile Struz Ok 4 pari Mamma per quanto Allora Vediamo Gulli Cosa combina qui Vai Gulli Lascialo per favore Ci pensa il god No sta JZM Ho paura Grazie JZM il god Vabbè Sto 100 di qua Non mi avessa Il pallone Tanto lo difendiamo facile Vero Bravo Gulli Gulli alzala Bravissimo Aertri Ho per sbaglio Non premuto la X All'inizio Diciamo che mi sono Un attimino fottuto JZM fai cacare Bravo Gulli Attenzione Ah Gulli è forte Ora ce lo dimostrerà Non tagliare per favore Lasciala Stava per tagliare Pazzo Non posso tagliare io Qua andiamo dietro Calma Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Finta Finta Tattica Finta Finta Via dietro Dietro Uè A chi vuole il bambato Uè Pepe Non ho boost Ragazzi ho 0 Sapete che si fa Quando si ha 0 Dovevo prendere il boost No volevo bussare Come un pazzo Ma ormai sarebbe alzato Madonna Meno male Ho fatto il panico All'inizio Ancora 100 di boost Vediamo se il King di Benevento Riesce a cacciare Una giocata tra le sue Si sono feicati a vicenda Quei due difficili Di dall'altra parte I miei complimenti A entrambi Riescono a confondere Cosa sta facendo JZTime Con quel saltino Che cosa era Tranquillo E' facilissimo Mi sta all'alzo Tanto questo viene a push La push Infatti sta push Combam Sei fortissimo Devo dire i miei complimenti Aspettare a parlare al boost Come i veri Platino Ci insegnano Allora J Gulli Io Voglio bene a Gulli Quindi non dirò nessuna parola Diciamo Che possiamo Chiamare questa partita Di Gulli Una partita sfortunata Dai Gulli Peggio di Mimine Questo game Lascia la tempo Dove vuoi andare Andiamo a prendere Il boost a 100 Andiamo back Ancora 100 di boost Questo è facilissimo Tranquillo E' fuori Ci penso io Guarda storia Direttino No Gulli ce l'hai Giusto Sì Bampiamo tempo Occhio Mamma GZM Ma che segone E' incredibile Comunque Bel passaggio Ma c'è tempo Va bene Lo stesso Sono andato Sono andato in due Sono andato in due Ma non ho manco Atterrato Non sono manco Atterrato Recentemente Mannaccia Bampiamo E andiamo dietro Guarda qua Guarda Tempo N Sono andato in due Allora Si può fare Il costo Coaster Io non ho parole Ragazzi Non ho veramente parole Non tagliare E' pazzo Gulli La festa di tua madre Gulli La sai Khead E' stravur Wkaaay No, c'è lui! Non ho il boost, mannaggia. No, culli! No! Mamma mia, culli. Stai a fine partita. Non ti metti in ginocchio a chiedere scusa? Veramente, che ti succede? Chi t'ha morto? Raga, non ce l'ho, questa è impossibile. Mamma mia, che tiro di merda a JZM. Per favore! Come abbiamo fatto a perdere! Come abbiamo fatto a perdere, ti prego! Ma perché a me? Ma che ho fatto, riman... Oh, comunque stasera tutti con me stanno facendo cagare! Ma che palle! Vabbè, raga, questa comunque non si può... Cioè, a favore ti voglio bene, però, mannaggia, la miseria! Abbiamo perso contro JZM e tempo! Cioè, rispettivamente la mia palla destra e la palla sinistra. Dei secondi incredibili! Ma mannaggia, chi te è morto? Forza Benevento! Un bacione! Dai su Twitch tutti i giorni, in link in descrizione, mi raccomando, non perdite gli stream per la ragazza partita in diretta. E stiamo fortissimi, quindi, metta a seguirmi. Vincchia! Basta! Contenuto per YouTube! Allora, il contenuto, in realtà, è soltanto perché la mia ragazza ha un problema, sta ruttando da 10 minuti. Però, anzi, anche di più, in realtà, mezz'oretta sarà. Però, sfruttiamo questa partita per far vedere quanto cazzo sono forti, non mi vedo ne quanto questo forte. E arabo! Ok, palo, ed è subito... Tiro in porta! Il tiro del video cos'è? Uno di uno ruttante? Ma una cosa del genere? Mi dispiace, non lo possiamo vedere, ma vi sicuro che è bellissima la scena. Questa è molto, molto forte in un mio, per quello faccio il contenuto, perché è una rabone molto forte. Di soldo mi fa il culo, vediamo di non farci sfondare. Allora, ho zero di boost. 100 ce l'abbiamo adesso. Occhia a budurla. Perfetto. Occhio al suo reset, basta. Gula! Questo è un mostro, raga! Questo è un mostro! E beccatevi sto swim, 2 a 0. Ma raga, questo qua, ho capito, lo devo pushare subito, se no mi fa... Mi distrugge veramente questo. Clamoroso. Allora, facciamo un kick-off lentissimo. Non devi partire dal muro. Dai, 3 a 0 così facile. GG, batti 5. Ok, facciamo un grande, grande kick-off. Alla mia... Sì. Pure il sigliozzo, tutto insieme. Olè, finta, finta, finta. Aspettiamo un fexotto, fexotto. Sbim. Andiamo dietro. Che palle, mannaggia. Allora, 12, altri 12. Io spero che questo video su YouTube lo veda solo gente che ha già visto altri video. Se no, penso che ci prenda per malati. Perfetto, 3 a 1. Facciamo un grande, grande kick-off. Alla mia, sinistra. La radice di 487 fa... 20... No, fa 22,0. Massimo 1. Ci sei allora vicina. Mamma, che schifo. 3 a 2. Facciamo un kick-off. Molto, molto veloce. A destra. Perfetto. Ancora 100 di boost dietro. Ma no, ma no. Questa cosa era. Art3boi no bump. Godo. 4 a 2. Questi contenuti unici sono le led su Twitch. Link in descrizione. Mi raccomando. Dove le raggiungo tutti i giorni. C'è molto spesso anche lei. che sta affianca a me. Non a ruttare, ma... Va bene. Andiamo a prendere il boost a 100. Occhio. Ce l'ho, ce l'ho. Sbim! Cazzo, lo sbim più brutto è la nuova... Nuova combo. Beccati sto fake. Andiamo dietro. La radice di 573 invece fa... 23.9. Giusto? Sì. Ok. Fake sotto. Fake sotto ancora! 5 a 2. Palle in testa. Palle in testa. Al povero Abdulela. Facciamo un grande kick-off. Molto, molto lento. Alla mia sinistra. Anzi, questa a destra l'abbiamo lo stesso. Olè! Che palo tirato fuori. Allora... Vampiamo? Stavo d'accordo anche io. Aspettiamo... Mamma, quanto cazzo sono forte! Vieni qua! Vieni qua! No, potevi farlo un secondo dopo. Così partiva insieme. L'esplosione gollo più il tuo. Devo far fare all'editor una bella... Una bella... Una bella grafica con l'esplosione più il tuo rutto. Incredibile. Allora, facciamo un grande, grande kick-off. Posso? Alla mia sinistra. Andiamo dietro. E ripeto, non lo sta facendo apposta. Ha un problema intestinale, credo. Anzi, se qualche dottore mi sta guardando in questo momento consigliate qualche cura. Grazie. Nooo, mannaggia. E vabbè. 6 a 3. Abdullah, occhio. Che parola è Abdullah. È Abdulela. Sono due persone diverse. Anzi, sono tanti Abdulela, però. Sì. Facciamo un grande kick-off alla mia. Sinistra. Posso fare un zinghino? Lasciamela. Appure mi sto di boost. Vabbù. Ancora 100. Benissimo. C'è chi ti ha un boost? 6 a 4. Che schifo. Sbim. 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 Mi sta venendo un crampo. Brava Abdulela. Posso andare io? Yes. Manchia, raga. Cazzo di si. Reset. Ma l'ha preso sto stronzo. Guardare questo anticipo incredibile. Mi sa che me la parla. Devo stare attento. Dai. Dove l'ha menata? Occhio. Ok. Sbim. Allo. 100 di boost ce l'ho. Cerco di fare un piccolo resettino. Ora, ora. Sbim. Brava, il poeta è giusto. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Perfetto. 7 a 4. Una bella clip incredibile. Facciamo un grande grande kick-off. A sinistra. Lanziamo. Ancora 100. Ho missato. Eh, sì. Come la vedi questa partita? Eh? Come la vedi questa partita? Grazie per insoparire. La salva che sta finire partita, visto che è contenuto per YouTube. E andiamo subito a prendere il boost da 100 di qua. Olè. Sbim. Mannaggia. 8 a 5. Mannaggia, mannaggia. Eh, purtroppo sì. Sì. Eh, lo so, però, un po' dove lo fanno. Eh, sì. Forse la prossima volta dovrà fare così, vedo un po' come... Ah, vabbè sì. Ma ora ci provo, aspetta. 100 di boost. Peccati sto... Fake sotto. Madonna! Questo qua casca ha tutti i fake sotto, dai, ti prego. Mamma mia. Cioè, sei veramente un... Eri un animale, porco cue. Eh, facciamo un grande, grande kick-off. Alla mia, destra. Sì. 100 di boost, ancora noi. Mamma mia, questo. Mamma mia, che schifo. Mamma mia, che schifo. Olè. Basta. Lo dice a noi, basta. Bene, bene, bene. Faccio. Il cougho a destra. Sì. Ed è 10. No. GG. Un bacione e forza bene, un po'. Ora sì. Ucaz. Ucaz, Furi. Guardate sto goal. Spam. Resettino. Preflip sotto al 7. Sotto al 7. Dai, ragazzi, ma... Non c'è nemmeno bisogno di esaltarci, perché questi goal è troppo facile. E ci esaltiamo a fare, le facciamo ogni partita. Basta, dai, andiamo avanti.